ciao a tutti oggi dal mio pavimento vi faccio vedere che cosa ho preso su shane è da un po' che non acquisto almeno una volta sola dico la verità ma mi attiravano tantissimo le magliette che avevano perché sono un pochino strane particolari non sono magliette semplici tipo questa ma ho preso un po di tutto in sostanza mi attiravano tantissimo quelle strane allora iniziamo con il botto vi faccio vedere un pochino queste magliettine che ovviamente ho preso allora la prima è questa questa qui questa che ha questi dettagli sulla manica molto molto carini questi 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 fatti così con questo pizzo è tutto in cotone e il pizzo è traforato e l'effetto addosso mi piace tantissimo è semplicemente come vedete una magliettina rosa con lo scollo abbastanza ampio e devo dire che cade anche bene sul fianco pensavo che erano un po' troppo ampie cioè vedendola così non indossata sembrava ampia ma invece addosso la trovo molto molto carina e neanche molto eccessiva le taglie vanno bene controllate la circonferenza del seno perché così siete sicuri di starci dentro questa era la prima e la lavoro la seconda è questa che sinceramente non stavo prendendo perché è nera è nera questa qua nera anche lei ha la particolarità di avere queste maniche un pochino lavorate queste hanno questa sorta di pizzo di tulle ma non è un tulle perché è più morbido con questa ricamo eccolo qua qua si vede bene con questo ricamo un pochino a rilievo con queste sorte di speluffini un po' a rilievo fatti a pompon a cerchiolini e come vedete non sta così dritta anzi cade giusto sulla manica e da questa sorta di decorazione sul braccio che adoro mi piace tanto anche la parte sul fondo con questo laccettino questo qui che regola un pochino l'altezza e gli da un pochino di movimento ovviamente i nastri sono lunghissimi poi si fa il nodo eccetera eccetera questo è molto bene perché fa bene le forme del corpo cioè resta sì aderente però questa sta più morbida assolutamente quella rosa sta più morbida questa qua un po meno però la dimensione è sempre grande e si adatta appunto al corpo lo scollo è a giro collo molto ampio e la stavo tralasciando ma ci ho ripensato perché appunto aveva questa particolarità della manica lavorata mentre la stavo tralasciando appunto perché era nera e io con il nero non è che vado molto d'accordo mi piacciono di più le cose colorate addosso però niente meno male che l'ho presa perché è molto molto particolare e sta molto bene penso che sia quella che sta meglio di tutti questa invece è stata una botta proprio di vita questa quando sia caldo quando ci sarà un botto di caldo mi è piaciuta tanto la colorazione di questa sorta di calottiera allora questa mi sembra che non sia potone ma sia viscosa adesso controllo bene poliestere ok poliestere la stan l'era stan è nelle nelle spalline un pochino ma il resto è rigida quindi occhio perché non è che si espande tantissimo e quindi guardate bene la misura in questo caso ha lo scollo fatto in questo modo cioè davanti alla forma appunto delle bretelline e un pochino del seno con questo dettaglio per valorizzare la parte davanti mentre sul retro è semplicemente dritta come una canottiera normalissima è dritta e ha le spalline regolabili quindi potete tirarla un po' più su e giù in base alla lunghezza che volete mi piaceva vi dicevo il colore di questa maglietta maglietta canottiera perché adoro questi colori non so se sia in palette con me boh non lo so sapete l'armocromia quelle cose di un po' così ho cercato di capirci qualcosa ma poco niente comunque io questi colori li adoro e niente ho voluto provare perché li aveva tutti praticamente adesso arriviamo alle note negative note negative ce le ho ancora impacchettate perché allora all'inizio non volevo fare il video ho detto ma si facciamoglielo perché no perché voglio fare il reso adesso con shin si può fare il reso molto facilmente perché no quindi meno male questa è una t-shirt che uno direbbe ok è una t-shirt vai tranquilla non dovresti avere problemi no quindi la dimensione è immensa pur avendo scelto la così è immensa pur avendo scelto la misura giusta ma la cosa che non mi piace di questa maglietta è come sta sul collo anche qui vedete il collo è ampio il taglio è sempre lo stesso quanto ho capito per tutte le magliette probabilmente sono io che non riesco a... o non mi stanno bene quelle di shin non lo so mi piaceva tanto la cosa di avere due stampe questa era molto fresca con i fiorellini sulle maniche ma niente ragazzi cioè sta malissimo sul collo sta malissimo cioè c'è qualcosa che non gira qua in alto qua c'è qualcosa che non gira no non va bene e poi in più anche la forma cioè non dà forma è un sacchetto pur avendo scelto anche in questo caso la misura un pelino più piccola rispetto alle altre ma niente cioè un sacchetto largo senza forme e questa è sua sorella quando vi dicevo che il taglio è sempre lo stesso molto simile questa è sua sorella fatta così con questa stampa con i cuori l'avevo presa per abbinarla magari a qualche jeans perché è dello stesso colore quindi ho detto vabbè quando fa un pelo più freddo adesso ci stava bene ma niente lo stesso difetto al collo e è un sacchetto non ha forme anche questa è semplice che sto portando un pochino vedete le forme le fa un pelo cioè è sempre fatta squadrata non ha nessuna pensa niente di niente però questa qua è un sacchetto quindi niente queste due qua sono bocciate mentre queste tre sono super promosse fatemi sapere voi come vi siete trovati con se state acquistando qualcosa con shin e se riuscite magari a consigliarmi qualcosa in questo stile questo un pochino particolare con magari qualche inserto in pizzo o qualcosa così e ci vediamo nel prossimo video ciao